Musica Dopo partita di Girifalco Nuova Valle vinta dal Girifalco per 3 a 1 in rimonta sulla squadra di Valle Fiorita che era andata per primo vantaggio con De Filippo al quinto del primo tempo e poi la rimonta con una doppietta di Ferraina e la reta di Leonardo Vonella Siamo in compagnia del mattatore, io penso del migliore in campo di quest'oggi Vincenzo Ferraina al quale chiediamo una vittoria che a questo punto vi porta fuori da qualsiasi pericolo Sì, quasi fuori Per la matematica ci manca qualche punticino Abbiamo saputo che hanno perso Valle Fiorita, Badolato Comunque per la matematica ancora manca qualche punticino Oggi abbiamo messo un bel mattoncino per la salvezza Siamo stati un po' disattenti nel primo tempo Infatti abbiamo subito subito il gol Però poi siamo stati molto bravi a rimontarla Nel primo tempo a pareggiarla Nel secondo tempo a chiudere la partita sul 3 a 1 Il Valle Fiorita è una squadra molto dura da affrontare Sono stati molto bravi a prendersi delle punizioni sulla nostra tre quarti e a creare dei grandi pericoli Siamo stati bravi a tenere botta Ora dobbiamo andare a Maida Dobbiamo cercare di fare qualche punticino lì a Maida E cercare di riuscire a mettere questi altri punticini che servono in cascina E salvarci E salvarci per questo campionato Onorarlo fino alla fine E andare avanti partita per partita Ormai ne mancano poche Siamo con Luigi Chiarella L'ex di turno Una bella partita disputata dal Nuova Valle nel primo tempo Vantaggio Poi c'è stato il pareggio di Ferraina Avete tenuto bene testa all'USG di Falco Poi nel secondo tempo un po' la partita Siete calati insomma Ma anche di tono fisicamente Siamo calati Insomma è calato anche l'albitro un po' Mentalmente diciamo per gli episodi Nel primo tempo la partita poteva andare diversamente Siamo passati in vantaggio Meritatamente penso Perché abbiamo messo un pochino sotto l'Eurogiri Falco Perché io conosco All'andata ci giocavo E' una bella squadra Sono episodi che l'albitro Secondo lui è stata una svista Però Leo Conedi è il numero 19 Il primo tempo come hanno visto tutti Dalla panchina Dalla tribuna E' stato già munito E' stato già munito Per protesta Insomma Successivamente si ripete Nel primo tempo Con un fallo Con un fallo al limite E qua E viene nuovamente munito Secondo l'albitro Non era stato munito Non era stato munito il 19 Addirittura disse Che è stato munito il 26 Poi si contraddice Che è stato munito il 16 Insomma è stata una partita Un po' così Siamo stati Lo dico anche a malincuore Siamo stati nuovamente penalizzati Non voglio demeritare sicuramente L'Eurogiri Falco Che è una bellissima Una bellissima L'USG di Falco Che è una bellissima Una bellissima squadra Io ci ho giocato Quindi conosco il presidente I giocatori Non posso parlare male Però siamo stati penalizzati Per l'ennesima volta Come squadra Noi abbiamo una bella squadra Abbiamo giocato bene Che dire Anche oggi è andata così